L'obiettivo è quello di dare continuità al punto conquistato sul campo del Rimini nel recupero di campionato. La Tarnana renderà visita sabato sera alla Sama Edettese. Sono 23 convocati, scelte dal tecnico Fabio Gallo che ha recuperato i centrocampisti Defendi e Palumbo. I portieri Giannarilli, Gagno e Vitale, in difesa Bergamelli, De Chite, Fazio, Ristovo, Russo, Mazzarani. Le opzioni per il centrocampo sono quelle di Defendi, Pobega, Paghera, Altobelli, Callegari, Furlan, Rivas, Castiglia e Palumbo. In avanti queste le opzioni, Bifulco, Vantaggiato, Marilungo, Frediani e Boateng. Anche per Frediani dunque recupero all'ultimo dopo il ritiro di Cascia in una settimana molto importante per la Tarnana che vuole invertire il trend negativo degli ultimi due mesi. La vittoria ormai manca dal 27 dicembre quando le ferie si impostero sulla Teramo. Grazie a tutti.